Domani mattina presso il distretto sanitario di base di Sciacca sarà consegnato, installato e collaudato il video dermatoscopio digitale Total Body, acquistato e donato dall'associazione Orazio Capurro Amore per la vita Orlus e contestualmente si svolgerà il corso di formazione rivolto al personale sanitario che utilizzerà l'apparecchiatura. Si tratta di una strumentazione di ultima generazione, tecnologicamente avanzata, che consentirà di effettuare accurati esami e precise mappature del singolo distretto oppure in automatico dell'intero corpo del paziente in soli due minuti. L'apparecchiatura, essendo dotata anche della speciale funzione follow-up, segnalerà alle visite successive la comparsa di eventuali nuove lesioni oppure i cambiamenti di quelle già esistenti. Un'iniziativa benefica che avrà importanti ricadute sulla sanità e la salvaguardia della salute nel nostro territorio, che consente all'ambulatorio di dermatologia del distretto sanitario di base di Sciacca di diventare un riferimento a livello regionale. Sono infatti pochissimi i video dermatoscopi digitali Total Body con queste caratteristiche presenti in tutta Italia, tra l'altro solo nei migliori centri. Grazie a questa preziosa apparecchiatura si potranno salvare tante vite umane, perché si potranno diagnosticare precocemente le neoplesie e tutte le lesioni maligne della pelle e dell'intero apparato tegumentario, in modo particolare i melanomi, la cui incidenza è sempre in aumento nella popolazione, anche in giovane età. Rientra nella donazione anche un corso di formazione rivolto ai sanitari sull'utilizzo dell'apparecchiatura, per consentire agli stessi un utilizzo efficace e completo del video dermatoscopio. Il valore commerciale dell'intera apparecchiatura è di 49.410 euro.